ciao a tutti questo è il dji rc pro enterprise come vedete ha uno monitor integrato da 5,5 pollici a 1000 nits che riesce a vedersi anche sotto la luce diretta del sole e questo invece è il nuovo drone enterprise il dji mavic 3t che è caratterizzato dalla presenza di una camera termica affiancata a una camera con obiettivo tele con ingranimento nativo 7x e da una camera sul visibile normale da 48 megapixel con un sensore da mezzo pollice nei precedenti video abbiamo provato la camera termica sia per quanto riguarda l'aspetto dell'analisi termografica con il tool messo a disposizione da dji sia per quanto riguarda la ricerca e soccorso ricerca e soccorso coaudiovoata dalla possibilità di fare zoom fino a 56x dji per i mavic 3 enterprise per tutte e due le versioni mette a disposizione sia gli sdk 5.0 per le applicazioni terze parti ma anche la possibilità di far volare a white point e fare mappatura per scopi fotogrammetrici direttamente utilizzando la dji pilot 2 integrata nel radiocomando rc pro enterprise che abbiamo visto prima quindi la domanda a cui voglio rispondere oggi è la versione termica cioè il mavic 3t quali risultati può ottenere in fotogrammetria dal momento che la sua camera è da 48 megapixel però da mezzo pollice di grandezza lo vedremo dopo la sigla benvenuti in un nuovo video di quadricottero il mavic 3 enterprise la dji pilot 2 integrata dentro l'rc pro enterprise offre diverse possibilità per quanto riguarda gli automatismi voli automatici vediamo ad esempio il volo a waypoint dopo vediamo la mappatura sono presenti due possibilità di volo a waypoint la programmazione oppure il live waypoint live significa che mentre stiamo facendo volare il drone possiamo memorizzare via via i vari waypoint di interesse questa invece è la programmazione che sto facendo di un volo basta è molto semplice basta cliccare sullo schermo col dito e si può programmare tutto si può fare sia drone acceso ma io consiglio di fare con drone spento offline e poi memorizzare il tracciato questo è un esempio di programmazione a drone spento di base possiamo programmare il volo con i waypoint tutti alla stessa altezza con il drone che vola alla stessa velocità ma possiamo anche personalizzare singolarmente per ogni waypoint sia la velocità che l'altezza e anche cosa deve fare il pilot e cioè il gimbal camera possiamo cambiare anche l'orientamento del drone cioè dove punta il muso del drone mentre percorre il tragitto quindi possiamo variare waypoint singolarmente ad esempio sono sul waypoint 1 quindi gli dico che non voglio seguire le regole principali oppure che le voglio seguire posso cambiare l'altezza le regole principali sono follow route quindi se io tolgo il check da follow route posso personalizzare il comportamento posso anche decidere cosa deve fare il drone ad ogni singolo waypoint come stiamo vedendo e posso decidere cosa deve fare il pilot una volta che il drone è arrivato sul waypoint in questo caso si clicca su azioni e qua ci sono le varie opzioni che posso scegliere sia per quanto riguarda il pilot che per quanto riguarda il drone posso cambiare anche lo zoom della camera e posso anche decidere cosa deve fare il drone una volta che ha finito il suo percorso a waypoint quindi se farlo stare in hovering se farlo atterrare se farlo tornare al punto di partenza e va dicendo una volta che ho finito di programmare posso salvare il tutto e poi richiamarlo quando mi recherò sul posto se in precedenza abbiamo collegato il controller a internet abbiamo già le mappe per caricate però consiglio in fase di programmazione di collegarlo a internet in modo da avere una mappa aggiornata poi una volta arrivato sul luogo dove intendo fare il volo a waypoint basta che carico la missione e poi do l'avvio quindi premo su play e mi compare una checklist dei parametri fondamentali essenziali che devo controllare prima di avviare effettivamente la missione se è tutto ok proseguo con la procedura a questo punto mi carica la missione anzi no perché ero in sport e quindi devo selezionare n modalità normale carica la missione sul drone e il drone inizia a volare a waypoint in modo automatico con i waypoint memorizzati al suo interno quindi non è come con lsdk per altri droni dji che fa tutto il radiocomando con il virtual stick ma i waypoint sono memorizzati all'interno del drone e questa è un'ottima cosa abbiamo visto che dopo il decollo è rimasto per un attimo sulla verticale poi si è portato al primo punto adesso sta andando al secondo waypoint molto velocemente rispettando i parametri che gli ho indicato è un percorso piccolino perché è il primo la prima prova quindi ho voluto farlo vicino per evitare problemi in caso di perdita di controllo qualche inconveniente come vedete c'è anche la pass attivo e quindi evitamento ostacoli attivo adesso sta eseguendo l'alteraggio automatico come gli ho detto di fare a fine missione come potete notare ho anche detto di lasciare la luce accesa quella verticale i più led vediamo se c'entra il punto di decollo dovrebbe esserci precisi on landing e vediamo che si perfetto abbastanza preciso devo dire ma passiamo alla programmazione per una mappatura ne ho già ne avevo già iniziata una e l'ho memorizzata adesso la riprendo perché voglio vedere assieme a voi alcune cose intanto possiamo vedere subito che il gsd è abbastanza elevato per i parametri che ho impostato cioè 6,59 cm pixel ma è dovuto al fatto che io ho fatto scattare sia l'immagine infrarossa che l'immagine sul visibile se scelgo soltanto l'immagine sul visibile il gsd torna a valori decenti e cioè 1,76 cm per pixel ad un'altezza di 50 metri e allora adesso possiamo selezionare un altro pilot un'altra camera per vedere che differenze ci sono tra i gsd in questo caso di nuovo wide più ir adesso torno sul visibile proviamo col mavic 3e enterprise vedete che il gsd è migliore 1,34 cm mavic 3e enterprise quello senza camera termica andiamo su matrice m30 e vediamo che il gsd è di 1,78 cm pixel quindi valori molto simili al mavic 3t e infatti anche la camera termica dell m30 da come risultato 6,59 cm pixel in linea con il mavic 3t allora proviamo la zemmuse h20n wide abbiamo 3,34 cm pixel proviamo l'h20t e abbiamo 1,72 cm pixel in questo caso il valore minore è migliore sto parlando sempre del gsd proviamo la zemmuse x7 e vediamo che abbiamo 0,82 cm pixel e allora andiamo a vedere cosa succede con il phantom 4 il mitico phantom 4 scegliamo la versione rtk e abbiamo 1,37 cm pixel valore uguale al phantom 4 pro v2 perché hanno la stessa camera anche l'advanced mentre il phantom 4 normale ha 2,15 cm pixel dati da cui si evince che il mavic 3 enterprise normale quello senza camera termica può sostituire indegnamente il phantom 4 rtk in particolare se ha il modulo rtk installato ovviamente anche in questo caso possiamo settare un po tutti i parametri che abbiamo visto su waypoint ma qua in più abbiamo anche la possibilità di settare l'overlap nel setting della modalità avanzata sia l'overlap laterale che quello frontale una volta messa a punto la programmazione è come per il waypoint si preme su play compare la schermata del checklist se tutto ok si clicca su next e poi si carica la missione sul drone e si clicca su start a quel punto il drone decolla ed esegue la sua missione di mappatura vedete adesso il punto home è fuori dalla griglia adesso si porta sul punto s sta in verticale stazione in hovering verticale anche per fotografare il punto di ritorno per poi eseguire precision landing che abbiamo visto prima e va sul primo punto punto s start ed ecco che inizia a fare a scattare le sue foto in movimento vedete forse è fin troppo veloce e questa velocità con questa velocità si rischia di avere effetti distorsivi dovuti al rolling shutter infatti questa versione ha l'otturatore elettronico e questo giustifica l'esistenza del dji mavic 3 enterprise normale senza camera termica perché il dji ha fatto in modo che quello normale abbia anche l'otturatore meccanico esattamente come il phantom 4 rtk e phantom 4 v2 tra l'altro la versione senza termocamera scatta anche in raw file jpeg e dng il mavic 3t invece non scatta in dng scatta soltanto in jpeg possiamo notare anche la differenza sulle due camere sul visibile quella del 3 enterprise normale è uguale a quella del mavic 3 quindi 4 terzi quella del 3t invece è da mezzo pollice 48 megapixel e l'apertura è f 2.8 mentre sulle 3 enterprise normale va da 2.8 a 11 insomma questi dati e questa prova ci indica che per fare fotogrammetria il 3t può andare bene però non è la soluzione ottimale la soluzione ottimale per la fotogrammetria è il mavic 3 enterprise senza termocamera anche e soprattutto per la presenza dell'otturatore meccanico che evita effetti distorsivi quando si scattano foto in movimento bene direi che è tutto ho cercato di sintetizzare al massimo i punti salienti e quindi spero che questo video vi sia stato utile iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto vi ringrazio per l'attenzione e lasciate un like grazie a tutti buona continuazione ci vediamo con il prossimo video su quadricotolo news ciao a tutti